come fare a scegliere quale parte del proprio investimento dedicare alle altcoin e quale detenere in bitcoin bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi vi spiego un metodo semplicissimo facilissimo ma anche estremamente utile sembra strano ma vi assicuro è molto utile per capire quanta parte del proprio investimento in criptovalute dedicare alle altcoin e quanta parte dedicare invece a bitcoin capita spesso a dire la verità che si ci confonda attraverso una serie di investimenti che vengono messi in atto ragazzi semplicemente perché magari ci piace un progetto decidiamo una parte del nostro investimento di dedicarlo a quel progetto però nel mercato delle criptovalute questa cosa non è del tutto corretta infatti è anche vero che il processo il concetto della diversificazione è fondamentale ma ne parlerò in un altro video perché volevo specificarvi un po dei modi in cui ragionare relativamente alla diversificazione però in realtà la diversificazione ragazzi è molto utile per una serie di motivi però nei mercati cripto che sono mercati speciali ragazzi non sono uguali ai mercati gold non ve lo dimenticate i mercati cripto sono speciali allora nel discorso dei mercati cripto questa diversificazione vale tanto e non quanto perché perché in alcune situazioni è molto utile soprattutto quando c'è un alt season perché insomma lì ragazzi i profitti vanno a go go però nella stragrande maggioranza del tempo la diversificazione sulle altcoin oltre essere rischiosa anche poco profittevolo perché bitcoin è più forte di tutti allora come si fa a capire quando diversificare in che modo diversificare soprattutto come si fa a farlo in una maniera non soggettiva cioè non inventata da voi in base al momento ragazzi ma come si fa a farlo quando ad esempio abbiamo un indicatore oggettivo oggi parliamo di questo vi ho preparato tre punti vi ho preparato un indicatore che è quello che uso io vi faccio vedere cosa faccio io come ragiona vi spiego questo modello questo metodo che potete applicare tranquillamente anche voi in maniera semplice non c'è bisogno di fare tanti calcoli ma vi faccio capire come si ragiona e credo che sarà wonderful per tutti quanti voi allora prima di andare a vedere il grafico dietro a mie spalle e spiegarvi tutto questo sistema vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciarmi un pollicione in su poi ragazzi vi chiedo di condividere anche questo video perché sono delle informazioni che possono essere d'aiuto veramente a tantissimi cripto investitori che poi è quello che è il mio obiettivo ragazzi darvi tanto tanto di quello che so io il più possibile aiutare il più possibile alla community dei cripto investitori che come sapete insomma è il mio cuore un corpiste il mio cuore batte per te sì ragazzi anche se faccio tanti mercati old soprattutto in questo periodo che stanno andando alla stragrande però le cripto sono sempre le cripto quindi spostiamoci sui grafici guardiamo il metodo fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti anche allora dove sono gli occhiali ho perso gli occhiali eccoli allora ragazzi dietro le mie spalle l'indicatore che io utilizzo per fare la per prendere le mie decisioni relativamente alla divisione tra bitcoin ed altcoin e questo indicatore ve lo faccio vedere già subito già da subito ragazzi è la dominance che trovate su trading view allora come si trova intanto questo indicatore di dominance basta andare qui ragazzi e scrivete semplicemente dominance ok e vi trova vedete la market cap bitcoin punto di che è la dominance ci cliccate sopra sono degli indicatori che crea trading view per aiutarci a guardare del dei movimenti del mercato cripto quindi sono delle ottimi indicatori ragazzi quindi io vado qui clicco e ottengo il mio indicatore poi vi consiglio anche di non utilizzare un time frame piccolo su un indicatore del genere ma assolutamente non avrebbe alcun senso quindi rigorosamente utilizzate solo e unicamente un timeframe weekly anche daily ragazzi non ha senso ve lo dico chiaramente quindi questo non è un indicatore che va preso per fare trading ma va preso per appunto utilizzarlo per queste situazioni ok allora perché avere questo indicatore perché avere un indicatore che ci dice quando diversificare ragazzi perché è un'indicazione statistica e quantitativa quindi non è inventata con l'indicatore noi siamo più sereni più tranquilli perché gli indicatori sono importanti ragazzi nel trading e negli investimenti perché ci danno la sensazione ma anche concretamente la certezza di basarci su cose oggettive non soggettive l'emotività che esce fuori dagli investimenti spesso ragazzi è negativa e quindi per tenerla a bada abbiamo anche bisogno di avere delle indicazioni numeriche statistiche che hanno una validità e che ci indicano appunto ragazzi che non stiamo agendo sulla base della emotività e del momento particolare ma stiamo agendo su dei dati effettivi dei dati importanti ma come utilizziamo adesso questo indicatore vi dico come lo utilizzo io io parto da un 50 per cento sempre e comunque detenuto in bitcoin quindi ragazzi fate una bella fetta di torta e la dividete questa questa torta ragazzi ok una bella torta così madonna io quando faccio questi ragazzi sono terribili con i disegni col mouse allora fate questa bella torta il 50 per cento qui è sempre bitcoin ragazzi ok perché io non faccio una diversificazione su tante altcoin perciò metà del portafoglio è sempre presente sulla cripto principale sempre presente su bitcoin per l'altra metà andiamo a fare la nostra diversificazione utilizzando questo indicatore che in particolare ragazzi lo utilizzo così quando la dominance di bitcoin è in fase decrescente faccio riferimento per esempio qui allora da quando esiste questo indicatore ragazzi è stato in pratica decrescente in tutta la bull run di bitcoin quindi e del mercato cripto quindi durante il 2017 ma quando io vedo che i prezzi quindi la dominance di bitcoin vedete va al di sopra di medie mobili per le medie mobili in questo caso ragazzi potete tranquillamente utilizzare delle semplici medie mobili a 20 periodi che vanno benissimo anche a 10 periodi in pratica perché non è importante il periodo della media mobile a meno che poi non decidiate di utilizzare dei periodi molto corti ragazzi in questo caso ve lo sconsiglio perché stiamo parlando di settimane quindi per una settimana anche le classiche i classici due tre mesi ragazzi che sono 12 settimane vanno benissimo vanno benissimo allora se il prezzo va al di sopra della sua media mobile significa che il trend della dominance di bitcoin sta invertendo ragazzi che probabilmente ci sarà un rallentamento delle altcoin attenzione ragazzi che io non vi ho detto in questo momento vi sto dicendo che investo in tutte le altcoin vi sto dicendo come divido la il mio investimento tra bitcoin ed altcoin ma poi le altcoin che vado a scegliere subiscono un altro tipo di analisi ok allora in questo momento per esempio qui ragazzi in questo punto io incomincio a spostare parte di quel famoso 50 per cento che ho libero e lo divido destinandolo tra bitcoin sempre e altre altcoin nel momento in cui bitcoin è in trend ribassista vedete come dominance in una situazione del genere quando vedo le medie che girano al ribasso il mercato mi indica una fase di trend discendente io prendo tutto il mio 50 per cento da destinare alle altcoin e faccio il mio investimento in altcoin che poi le scelgo in un altro modo ragazzi ne parleremo alla fine del video ma poi farò un video apposito mentre quando il mercato inizia ad andare in barra di congestione oppure mi va sopra queste medie io inizio a spostare quel 50 per cento dalle altcoin vendo ragazzi vendo le altcoin contro bitcoin e mi riposizioni in bitcoin come semplicemente facendo una specie di di baffo quindi tengo da una parte questo mio 50 per cento e poi dico ok lo sposto man mano che il mercato mi dà segnali di inversione il 50 si sposta a 30 fino ad arrivare ad un 10 ragazzi ok quando arriva un 10 quando ad esempio come in questo caso su questo punto qui ho avuto l'inversione di trend di breve periodo perché c'è stato di medio periodo scusate è perché c'è stata un'inversione minimo minimo più alto massimo massimo più alto quindi inversione della dominance di bitcoin a questo punto da qui in poi io detengo solo il 10 per cento delle altcoin e voi potete fare esattamente così ragazzi guardate il trend vi ho spiegato mille volte non si guarda un trend di uno strumento se il trend è positivo allora potete anche decidere di destinare alle altcoin solo un 10 per cento delle vostre del vostro capitale se il trend della dominance di bitcoin è positivo altrimenti potete iniziare a spostarvi e aumentare le posizioni in altcoin quando per esempio si possono aumentare qui in questo punto quando c'è il mercato laterale vedete che per un po il mercato non fa nuovi massimi io posso decidere di prendere quel 10 per cento e iniziare a spostarlo al 20 per cento ok e man mano poi che il mercato va avanti decido cosa fare qui in questo caso quando il bitcoin mi ha rotto di nuovo il massimo io ho riportato indietro al 10 per cento il il mio investimento in altcoin quindi prima era 10 siamo andati a 20 e poi una volta che il mercato mi ha ripreso il trend rialzista della dominance io ho riportato a 10 il mio investimento nelle altcoin successivamente andando avanti si può vedere anche quella che è l'attuale situazione infatti se ci fate caso anche nell'attuale situazione ragazzi nella settimana scorsa vi ho parlato anche di altre altcoin che ho sott'occhio ho fatto un video proprio dedicato però in questo momento vedete da qui in poi quando il mercato ha iniziato di nuovo questa fase quindi da gennaio 2020 ho spostato il mio 10 per cento in altcoin e l'ho spostato in questo momento al 30 per cento quindi ho il 30 per cento del mio investimento dedicato alle criptovalute e ce l'ho in questo momento in in altcoin ragazzi quando aumenterà al 50 perché io vi ho detto che può arrivare anche al 50 per cento quindi c'ho ancora un altro margine di altri altro 20 per cento da togliere da bitcoin e mettere in altcoin quando indovinate vi dovrei fare la domanda classica che faccio sempre quando questo trend invertirà quindi se mi rompe questo livello di 62 quando la dominance bitcoin e se la dominance bitcoin scenderà sotto 62 io aumenterò ulteriormente la mia quota di altcoin fino al 50 per cento se invece bitcoin non dovesse mai scendere qui ragazzi ma andare a fare un rialzo al di sopra di questo livello verde e quindi riprende il suo trend rialzista io dal mio 30 ritornerò al 10 per cento della dominance della della mia posizione diciamo di altcoin ragazzi ok allora questo è il metodo che utilizzo è il grafico che utilizzo l'indicatore che utilizzo io per decidere quanta parte del mio investimento dedicare alle altcoin e quanta parte a bitcoin potete farlo anche voi nello stesso identico modo guardando semplicemente un grafico e questo vi renderà possibile decidere il money management chiamiamolo così tra bitcoin e altcoin in maniera quantitativa statistica e oggettiva un grandissimo vantaggio ragazzi poi come faccio a capire quali sono le altcoin da prendere in considerazione rispetto a bitcoin se lo volete sapere scrivetemelo nei commenti ragazzi perché dedicherò un video anche con un altro metodo per scegliere le altcoin migliori per oggi è tutto fatemi sapere quello che pensate il pollicione come sempre ragazzi ciao ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti